Leggo il contributo che ci ha inviato il professor Bruno Di Porto, storico del giornalismo e di storia contemporanea dell'Università di Pisa. Ed è un contributo al settimo convegno Donne e Religioni. Rabbi Hillel, in una delle massime dei padri che gli ebrei meditano in questo periodo dell'anno tra Pesach e Shavuot, la festa dell'uscita dall'Egitto e la festa per la rivelazione del Sinei, diceva che il bur non sa temere il peccato, bur si traduce ignorante. Appassionato di etimologie, ci scorgo un nesso col romano burino e con l'inglese boor, villano, ma non vi trascino in glottologia. Soffermiamoci sull'ignoranza che figura nel titolo indicativo, ignoranza, violenza, discriminazione, segni dell'inciviltà, dato a questo incontro. Come per ogni umana condizione, l'ignoranza può avere diverse cause e diversi modi di viverla. Lo scibile è così immenso che ignoranti siamo un po' tutti, lo sono per primo. In certe cose lo doveva essere anche Rabbi Hillel, se non altro per limiti inerenti agli antichi tempi. Ma qui parliamo di una ignoranza di imparare. Più ancora, parliamo di una ignoranza soddisfatta, compiaciuta, conservata, trasmessa e perfino coltivata da chi ignorante non sarebbe. La coltivazione dell'ignoranza ha avuto nella storia un campo di applicazione riguardante metà del genere umano, le donne, mantenendole confinate entro ruoli prestabiliti di risorse di diritti limitati e mantenendo ignoranti gli uomini sul conto delle potenzialità femminili. Oltre le fondanti risorse della maternità, del focolare, del sentimento, dell'abnegazione, di un particolare intuito. Altre capacità di donne hanno brillato, specie in alte sfere, quasi a confermare col timbro dell'eccezione, fin anche dell'anomalia, la forza della regola, in una visuale deterministica delle polarità di genere. Così, in un certo positivismo, cheppure ha avuto il timbro della modernità. L'emancipazione femminile è una delle grandi emancipazioni nel cammino del progresso, in parti del mondo che meglio meritano, a nostro avviso, un titolo di civiltà. Come ogni emancipazione ed ogni progresso ha bisogno di essere consolidata di una memoria, scusate, salto le righe, ha bisogno di una memoria che faccia consapevoli delle conquiste e di slancio per procedere al futuro. Ha bisogno di essere consolidata, riaffermata contro impedimenti e rovesciamenti in dimensione pubblica, in dimensione educativa e in dimensione privata, cioè entro le famiglie, entro le coppie, che costituiscono la scena primaria della relazione antropica tra i generi uomo e donna. Fatti per completarsi, per dar luogo alla vita e alla gioia, alla poesia e alla cultura, allo sviluppo della personalità, ma anche per confliggere, per soffrire, per complessarsi, addirittura per finire tragicamente. L'emancipazione femminile nella nostra parte del mondo è largamente in atto, garantita dalle Costituzioni e nel complesso dalle leggi. Dico nel complesso, sapendo gli ostacoli che donne incontrano, specialmente nel lavoro, per il problema che deriva dalle interruzioni nei periodi di gravidanza ed allattamento e per disuguaglianze in trattamenti economici, nonché a tante che non trovano lavori o lavori adeguati. L'emancipazione femminile dalla metà del Novecento ad oggi è di portata storica e si può dire antropologica, come già dicevo, per lo schema duale di differenziazione umana su cui si è costruito, più o meno in ogni civiltà, l'impianto culturale nell'assegnazione dei ruoli e dei diritti, malgrado con relative compensazioni di amore, di rispetto, pensate alla cavalleria, di eccezionali risalti per emergenza di figure e caratteri, di poetica deferenza, eterno femminino regale, di devozione religiosa, culto mariano. Si fanno sentire, in ogni caso, i rapporti di forza, che sono largamente trasversali alle differenze di genere, ma in parte sono frontalmente di genere, in genere a scapito delle donne. Per tutto ciò, i supporti all'emancipazione femminile sono necessari, perché nessun progresso procede per inerzia e ognuno può essere insidiato da diversi fattori e marosi nella storia, tutt'altro che rettilinea delle civiltà. Ci sono, nell'andamento delle cose, resistenze, resilienze, rivalse degli assetti e delle tendenze, che sono stati vinti e superati, richiamo, per analogia paradossale, e capendo bene le differenze, l'emancipazione degli ebrei, che nell'età liberale poteva apparire una conquista irreversibile e che fu seguita non solo dall'abrogazione con pauroso regresso del diritto, ma dal genocidio degli emancipati. Questo solo per dire che nulla è scontato, dovendo anche tener conto, in qualche misura, del possibile influsso di vaste migrazioni da altre culture, le quali certamente si modificano vivendo in Europa, ma possono influenzare, a loro volta, alcuni strati di opinione europea, fin anche tra le donne, perché tra i due generi non c'è una netta frontiera di costumi e di mentalità. Con l'immigrazione, la questione femminile assume una nuova esigenza di impegno, promuovendo, come parte dell'integrazione nella società italiana, l'emancipazione di donne immigrate da paesi in cui la condizione femminile era più condizionata, subordinata, arretrata, nel contempo rispettando, ove civilmente compatibili, le diverse tradizioni che sono interiorizzate dalle stesse donne come patrimonio e segno della loro educazione e della loro identità. Di ausilio civile degli organi preposti di polizia e giudiziario hanno bisogno le cittadine italiane quando siano in stato di pericolo per il rapporto di forza con uomini di cui parlavo. È impressionante a riguardo il fenomeno indigeno, uno strano, dello stalking e dei femminicidi, che non sono soltanto fatti di cronaca, o meglio, la cronaca è altamente sociologica. Sono colpito dalla frequente presentazione, almeno a livello giornalistico, della reazione ai femminicidi come iniziativa delle donne, più o meno femministe, e come problema loro. Ho avuto piacere che mio nipote, studente liceale a Roma, abbia partecipato coi compagni di un gruppo giovanile ebraico ad una recente dimostrazione indetta da donne contro il ripetersi di tali delitti. Vengo perciò all'esigenza di supporto, civilmente misto, anche maschile, che non manca, a partire dai padri costituenti, ma che va alimentato. L'ho modestamente perseguito nell'insegnamento a partire dai ben verdi anni, quando mi trovai assegnato ad una classe maschile di prima media in una periferia di Roma, dove ancora si tenevano divise le classi per genere, tenendo un apposito ciclo di lezioni e conversazioni sull'argomento. Insegnai poi in classi femminili, incoraggiando il senso della personalità e dell'iniziativa in armonia con l'uomo. Giuseppe Mazzini ha scolpito il monito nei doveri dell'uomo. Amate e rispettate la donna. Non cercate in essa solamente un conforto, ma una forza, una ispirazione, un raddoppiamento delle vostre facoltà intellettuali e morali. Cancellate dalla vostra mente ogni idea di superiorità. Non ne avete alcuna. Un lungo pregiudizio ha creato, con una educazione disuguale e una perenne oppressione di leggi, quell'apparente inferiorità intellettuale dalla quale oggi argomentano per mantenere l'oppressione. Fine della citazione. È da notare l'attualità dell'oggi. Quando Mazzini scriveva era l'anno 1860. Nello stesso anno il mazziniano pugliese Salvatore Morelli, 1824-1880, reduce da infernali carceri borbonici, scriveva un libro sulla donna e la scienza. Eletto deputato di Sessa Urunca, presentò nel 1867 una proposta di legge che non giunse neppure alla lettura, per l'uguaglianza dei diritti civili e politici tra i due sessi. Presentò in vano, a ripetizione, progetti di legge per il divorzio. Ma almeno il successo arrise, nel 1876, alla sua proposta di legge per il diritto delle donne ad essere testimoni in atti pubblici e privati. Fu già un bel passo. Le storiche dell'emancipazione femminile ne hanno fatto conoscere le tappe. Senza qui risalire ad epoche più lontane, mi piace parlare di persone che ho conosciuto. Uno dei libri di Franca Pieroni Bortolotti è Alle origini del movimento femminile in Italia, 1848-1892. Quanti sono stati i libri e le iniziative di Tina Tomasi, pedagogista? Un esempio utile a riconoscere il merito di uomini è il suo Società e scuola in Aristide Gabelli, che lo confronta con idee ben diverse di suoi contemporanei. Tina Tomasi ci ha lasciato tracce della propria vita nel libro La scuola che ho vissuto, con il duolo di giovane per l'esclusione delle donne dall'insegnamento di storia e filosofia nei licei, prima di pervenire nell'Italia democratica all'università. La carissima Anna Maria Galoppini ha delineato il lungo viaggio verso la parità, i diritti civili e politici delle donne dall'unità ad oggi. In ampio studio ha ricostruito le vicende e le figure delle studentesse dell'Università di Pisa nell'arco di tempo 1875-1940, da quando furono ammesse a corsi di diplomi come ostetriche e poi lungo le limitazioni poste dal regime. Operando alla Domus Mazziniana, in Pisa nei primi anni Ottanta, accolsi Rachele Farina, che raccoglieva documenti per la mostra in Milano Esistere come donna. La mostra partì dalla museruola apposta alle donne loquaci, dalle cinture di castità, dal rogo di Anne Hendricks ad Amsterdam nel 1571, fino alla legge per la riforma del diritto di famiglia del 1975. Nella dedica sul catalogo, Rachele Farina mi riportò di sua mano queste parole di Anna Maria Mozzoni. Grazie a voi tutti, uomini generosi, che elevandovi sopra le mischine ispirazioni degli interessi e che con la parola, con la penna e con l'opera affermate i diritti della donna. Reciproco è il grazie a tutte le generose donne e concludo sentendomi onorato di collaborare con Marisa Patulli Traito, l'animatrice di iniziative di civiltà. Siamo pronti e qui inizio con il citare di Bruno Di Porto che vi ho detto e abbiamo letto.